Per farti capire, ero tipo strano e nervoso perché non mi ero collato alla cc, mi sono andato a mangiare, non so, un capivara. Prendono la flag? Se vieni con la palla li uccidiamo. Te lo giuro. E sono fermi sulla scala, te lo giuro, qui. Aspetta che gli va anche il mate. Ah no, si fightono, si fightono, ok, aspetta, aspetta. Di farlo ora bene. Crackato uno? Crackato un altro? Crackati 3. Dove, dove? Sono boxati? Lì, 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 dal mio ping vai bene, in teoria. Cento, cento, cento. Noccati, 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 noccati. Morto uno? C'è un altro team, è un altro team. Aspetta, ho la palla, ho la palla. Sono boxato, te lo giuro, li faccio 100. Crackato bianco? Sì, li killo, li killo, li killo. Sì, sì, li facci tu. Sono morti. Morto uno, cento, cento wipe, mamma mia. Comunque no, te lo giuro. Cioè, le P-Games, te lo giuro, non so. Ma lo so, te l'ho detto prima. Non ha senso questa cosa. Non ha proprio senso. I ragazzi. Per quello dico che adesso, fidati di me, le persone si metteranno per rancare, cercheranno i lama, si prenderanno due di queste e fanno solamente le kill così. Arrivano in endgame, uno li pusha, gli tiri due palle. Io non mi sento di essere stato bravo a vincere sto spawn, cioè. Non sono io che ho vinto, è sta palla qui, cioè. Ah, non lo so. Ma spawnano ogni safe o spawnano solo sta safe qui? Eh, non lo so, sai. Però spawnano spesso, perché prima anche a Mega City l'hanno trovato. L'hai trovato poi nuovamente tu. Alla fine non si possono trovare solo nei lama. No, no, no. Infatti, lama è una certezza, ma... Li trovi ovunque, quindi figurati. Spero che non ci siano, eh. Perché di solito intorno non ci sono i lama. Però potrebbe essere che... No, dai, no, no, no. Ce lo giuro, se l'hanno messo nei completivi, sono proprio... Eh, se l'hanno messo nei completivi, buon divertimento domani con la Cash Cup. Sì, sì, buon divertimento. Vabbè, buon divertimento anche agli altri. Diciamo che se lo sei... No, no, ma se lo sai, cioè, se c'è, non ci si gioca a box out, cioè. In head game non so come devi stare. Sicuro non box out, perché se uno ce l'ha, sicuramente sei morto. Eh, lo so. Magari se l'hanno doppia, cioè. A me prima la stavano tirando, l'ho sentita e l'ho doggiate due, però... Ora ce l'abbiamo doppia, e quindi non facciamoci vedere che ce l'abbiamo in un fight e ci vediamo subito. Sì, 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 sì. Ti sei fatta vedere che hai la palla? No, quello no, ma io sono morta. Come sei morto? Probabilmente sì. Mi pushano. Sto arrivando? Io sono andata io, eh. Eccolo. Faccio la palla, faccio la palla. Facciamola anch'io, faccio anch'io. Dov'è andata? Eh, non so dove è andata. Abbiamo missato. Qua è? 40. Gioiro? Sì, questo fu il pad. Sì, frate, io sono morta, mi sembra una mano. 100? Non vedo niente, c'è la cascata. La cascata non vedevo niente. 3. Ehm... Safe. Ci sta? Sì, sì, ci sta, ci sta. L'ha visti? Sì. Anche loro, anche loro. Forse uno ha la palla, attento. Uno, uno di lato, uno di lato, uno di lato, ti vede da destra. 100, 100, quello a destra. 110? Morto. Mi hai fatto 100, morto. Muore, muore, muore. No, non muore. Mi hai fatto 100? No, no, non l'è stata. 100, 200. Questa, tolge, facciamo uscire il video di YouTube. Abbiamo le palle. Abbiamo le palle? Abbiamo le palle. Quante sono le palle? 4, 4. Ci sta, però, come il titolo di YouTube. Nel senso... Però sono boxati. Un team sotto, un team sopra. Wait, però sono boxati. Questo qua è boxato, eh. Gli faccio 100, gli faccio 100. Al padere, devo andare bene. Gli faccio 100, questo, questo, questo. 150, 150. Bravissimo, bravissimo. 22 white. Hold, hold, hold. Ho preso. Passo qui. Boxato. 140. Nice. L'altro è white, praticamente. C'è un po' più quanto. E qua dentro da me? Ho tappato. 90 crack, quello sopra? Crack di entrambi, crack di entrambi, crack di entrambi. Eh, questo qua mi si è fatto il mio. Vabbè, io... Ora sono due team diversi, eh. Ho tappato? Ah, ok, nice. Da me? Sì. 140. Marta. Vabbè, la palla questa, due, goto. Anzi, no, tre. Davvero? Eh, mi sa che... Eh, mi sa che quando la prendi da un avversario si ripulla. Eh, lo so. Sai che roba c'è? È out of mind, sta roba. Siamo in otto, infatti. Cioè, nice. 14 kill di cui 10 l'abbiamo fatto. Ah, perfetto, capito. Freda, vi state. Freda, vi state. Freda, vi state. Sì, 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 sono giù, infatti... Scusi, qui, 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 qui. Aspetta, prima salgo, prima salgo, prima salgo. Ok, c'è un altro team però, aspetta, altro team. Che rampano, rampano, rampano. Sto salendo, sì? Ma solo, what? Cosa fa? Ci pu dire la palla, 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 la palla, la palla. Sono morto di fall, per il giorno. Eh, mi sa che non conviene stare qua, però. Fallo. Eh, non so, vai il mate. Forse è qua sotto. Eh, sì, sì, lì, lì, lì. Se sono entrambi uniti... Ok, sono uniti forse. Vado, vado, vado. Vai, vai, vai. Vado. Stracate entrambi. Eh, 1, 2, 1. 40 white. Knock out 1. Buonissimo. 40. Nice. Hai lo slug for te, no? Sì, sì, sì. Doveva averla anche lui, in teoria, no? Io ho ancora la pallina con due carichette, quindi... Sono la 18 kill. Win. Flashbacks. Infatti, la maggior parte solo ha una palla. Ah, no, hanno fatto le boot. E poi dove l'ha fatto, scusami? Verso sponde, per forza. Aspetta, aspetta che arriva! Sto arrivando, sto arrivando all'ultimo, 100%. Stai nascosto. Certo, morto, morto, morto. 184? Mi sono la fatta la sloop, fuori ce ne sono quattro. Sì, sì. 19? Oh, se ributta, sono 20. No, comunque penso che sia forse a mani basse... Sì, sì. Il potere più forte che hanno messo fino ad oggi. Cioè, ce n'hanno tanti forti, quello di Iron Man, però è un raggio troppo ampio. È qua, è qua, è qua. Davvero? Te lo giuro. Aspetta, aspetta. È il titolo loggio. Aspetta, aspetta. Insieme, insieme. Lo sto picchiando. Ok, ok, ok. Allora, no, gli faccio 1v1, lo boxo e gli facciamo doppia palla, ok. Te lo giuro, te lo giuro. Vai, 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 vai. Quando vuoi? 3, 2, 1. Sto già facendo la palla, vai. 100. 100. Povero Cristo. Ti ho visto. Ti ho visto questo, questo sta bestermiando in turco, te lo giuro. L'ho killato con il coso. Con la pallina, gliel'hai fatta proprio alla fine, beh? Sì, sì. Eh, quello ti ha fatto tipo 180. Voglio vedere i danni che ho fatto, aspetta. Che ti giuro, l'ho fatto solo di palla tra un po'. Non sto scherzando. No, vabbè, ragazzi. Cosa sto vedendo? No, comunque non sarà mai in comp questa cosa, scordatelo. No, no, infatti... Cioè, se l'hanno fatto... Cioè, in caso l'hanno fatto, veramente, in seguita fino a season prossimo, te lo giuro. Cioè, se trovi stila, ma così... No, vabbè, raga. C'è una messa di poteri forti, eh? Tipo anche la smash di Deku, molto forte. Ma questa è proprio fuori di testa. GG per Abic. Come sempre fanno cosa fa, vedo. Molto, molto bravi, molto bravi. Bello se stanno nelle Grand Finals. No, ma non sarà mai. Dai, cioè, sono stupidi, ma non penso a questo... Oddio. No, ti ammazzano nelle Grand Finals. Arrivano i moving in 20. Eh, in 20 e il fight finisce in un secondo. Si ammazzano avvicendo tutti. Letteralmente. No, no, ma non penso siano così stupidi. No, 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 non ci sarà. È come il cannone che non è in comp, capito? Ciao, ciao.